20.000 metri quadrati di superfici, 250 espositori, il 30% in più rispetto al 2011, 10 serate di spettacoli e concerti con ospiti come Monica Sarnelli, Biagio Izzo, Gli Stadio e Di Mattia Bazzarra. Il 14 giugno parte la 55esima fiera della casa, organizzata tutta in house dall'ente mostra d'oltremare. Per promuovere la prevenzione ci sarà anche un villaggio della salute, un vero proprio ospedale da campo con 200 medici a disposizione, in cui i visitatori potranno usufruire gratuitamente di alcune visite specialistiche e con un contributo di 10 euro accedere ad ulteriori controlli più complessi come quello cardiologico e ginecologico. Tra le altre novità l'outlet della solidarietà per raccogliere fondi destinati ad opere di beneficenza ed esposizione di giovani artisti di respiro internazionale. Si attendono oltre 100.000 visitatori anche in considerazione di prezzi d'ingresso ridotti che vanno da 1 a 5 euro. Questa è una grande iniziativa perché risponde alla tradizione della città in primo luogo, poi è anche una fiera contro la crisi e una fiera per la fiducia. Ci sono più espositori, l'area occupata è ancora più grande dell'anno scorso, ci sono grandi innovazioni che vanno nel rapporto tra la fiera, la mossa, la cultura e l'arte. C'è l'outlet della solidarietà, c'è questa grande novità che è il rapporto con un'eccellenza napoletana che è l'Accademia delle Belle Arti, quindi abbiamo un rapporto mossa, città, cultura, arte molto forte, c'è l'esposizione degli allievi delle belle arti e c'è anche una grande mossa, la mossa internazionale del gruppo Arc che porterà a Napoli un gruppo di significativo valore dal punto di vista dell'esposizione e quindi della capacità pittorica a livello internazionale.